ciao ciao amici sono il carletto e come sempre questo il mio canale dove vado a recensire statue doll action figure gashapon robosho gokin gokin cavalieri dello zodiaco sensei amit klot tutto quello che è il mondo del collezionismo che io adoro quindi se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al mio canale come promesso dopo aver visto il carletto della future veramente bellissimo e consigliatissimo per chi ama il cartone animato vi faccio vedere un mondo di gashapon allora queste qua sono tutte gashapon e portachiavi che ho io in vetrina che sono veramente carini e sono i protagonisti principali proprio di tutta la serie allora l'unica che al packaging sono queste quattro figure vediamo se riesco a farvi vedere bene che sono queste quattro che sono dentro una scatoletta quadrata all'interno non ha nient'altro che le quattro figure con la basetta come possiamo vedere frankie carletto l'uomo lupo e frankie steen tutti loro e questo packaging ha solo dentro loro quattro senza nient'altro quindi era inutile che facevano l'unboxing andare a cercare la scatola per poi farvele vedere gli altri come già detto sono dei portachiavi come in questo caso che poi io sono andato a levare la parte superiore e sono veramente bellini in vetrina alcuni fatti veramente bene guardate lui guardate lui comunque adesso li vediamo bene nel dettaglio chi è questo è un intruso è uno snorchi ma porco cane pure gli snorchi vengono a rompere le scatole vedremo anche gli snorchi in futuro comunque sono vari set varie gashapon vedete e comunque ve le faccio vedere tutte nel dettaglio perché secondo me alcune sono veramente curate bene questo set si trova pochissimo si trova a 40 euro ragazzi sono fatti veramente bene tutti e quattro io ve lo consiglio per il prezzo irrisorio e questi qui sono dei portachiavi che levati la parte superiore veramente sono veramente bellini e stanno veramente bene in vetrina come sapete io sono un collezionista e quindi anche quando ci sono delle cose di poco costo ma veramente belle ve le faccio vedere perché così magari le potete trovare le ve le prendete anche voi se vi piacciono allora andiamo da vedere tutti bene nel dettaglio tentiamo di fare una cosa veloce ma vi faccio vedere un po il mondo di carletto il principe le vostre amici partiamo dal set che troviamo con i quattro protagonisti allora vediamo frankie guardate questo set veramente si trova pochissimo ragazzi sui 40 euro ed è veramente carino guardate come sono fatti bene io lo adoro questo set qua a me piace un sacco anche vista la cifra irrisoria perché questo qua veramente lo troviamo direttamente dal giappone sui 40 euro guardate come sono fatti bene lo adoro veramente fatto veramente bene e quindi volevo partire appunto da questo set qua guardate l'uomo lupo che sono fatti veramente bene ragazzi piccolini perché ovviamente sono gashapon però guardate come li hanno curati guardate anche gli artigli sulle mani fatte veramente carini questo è carletto e questo set come già detto lo troviamo in giappone loro quattro i protagonisti lo troviamo sui 40 euro praticamente la paghiamo 10 euro l'uno la cifra che la troviamo questo qua poi c'è un set di gashapon questo qua molto carino io ho preso solo questa scenetta era quella che mi piaceva di più ma ha delle altre parti aggiuntive questo set vedete qua possiamo andare a montare altre figure se non ricordo male è composto da quattro scenette questo set qua ma questa presa solo quella che mi piaceva di più ora passa a farvi vedere quella cosa che dicevo prima tutti i portachiavi questi qui sono portachiavi come vi farò vedere in testa hanno una l'ho lasciata per farvi capire vedete partono così hanno in testa il portachiavi che o è bianco così o è proprio classico portachiavi con la catenella si va a svitare e poi alla fine ti rimane la figure questa qua è proprio bruttina effettivamente però le altre sono veramente belle guardate qua il cattivone per le eccellenze il papa di carletto le vostre guardate come è fatto bene guardate qua vedete qua c'era il buco per la catenella catenella per il portachiavi però tenuto in vetrina ragazzi questi qua uno a fianco agli altri sono veramente belli guardate guardate questo che bello esiste anche un vinilone sia di lui che del del re del papà di carletto anche questo vedete recuperato da un set di portachiavi che portata a casa veramente a poco prezzo e poi formate in vetrina a tutti i personaggi veramente eccezionale ve lo consiglio a tutti vedete questi sono tutti portachiavi lo riconoscete da questo buchino che hanno tutti sulla testa ma alla fine completate fate quasi tutti i personaggi e io ve le consiglio se trovate questo set di portachiavi in giro ve li consiglio vedete perché sono fatti veramente veramente bene vedete hanno tutto il buchino però guardate come per essere dei portachiavi gli hanno curati tutti veramente bene guardate curati veramente veramente bene lo consiglio per quello perché con una cifra veramente bassa qua si parla di 23 euro personaggi andiamo a fare in vetrina tutti i personaggi di carletto vedete la fine rimane alla fine solo questo buchino a rompere le scatole però se lo andiamo a colorare io non l'ho mai fatto perché non mi interessa tanto se non lo si dice le persone non se ne accorgono neanche alla fine non si vede assolutamente più nulla vedete allora visti i portachiavi adesso vediamo le ultime figure che rimangono di vari set vedete perché poi di carletto ci sono vari set per esempio in questo set qua avevo recuperato lui e lui praticamente vediamo lui avete fatto veramente carino mi era piaciuto e questi sono set che come ribadisco ragazzi troviamo a 34 euro veramente belle avevo recuperato lui poi cosa avevo recuperato mi pare vediamo vediamo non vorrei dire una bufala perché poi in giapponese non si capisce avevo recuperato si è lui vedete è quello centrale con quali possiamo andare a metter la mano allungata come quella della future o quella corta io ero messa così veramente carina con il logo del titolo del cartone animato poi era andata a recuperare allora queste altre due di un altro set vedete questo era sempre con l'uomo lupo lui quando fa la trasformazione e questa qui era anche lui con il braccio allungato vedete infine avevo recuperato perché invece un sacco l'uomo lupo questa figure che una di quelle con la testa che si muove vedete guardate come è curata bene questa cosa guardate come è bello il dettaglio nel collezionismo ragazzi bello non è avere per esempio tutti i set di gashapon al completo ma riuscire a recuperare secondo me quelle che ci piacciono di più e vi garantisco che ho fatto un angolo in vetrina di carletto eccezionale veramente con tutte queste figure poi quella della future e mi piace un sacco fatto veramente bene questa versione qua la troviamo anche con la testa da uomo lupo ma io l'ho voluta prendere con la versione così perché in versione uomo lupo già ne aveva un casino ne avevo 4 5 e quindi e questo è tutto dai vediamoli solo un secondo girare concludiamo anche questa recensione del mondo delle gashapon di carletto eccoli qua amici questo è un po il mondo delle gashapon e oggettistica varia vedete di carletto qua ho sbagliato a metterli in tiraggio tutto spostiamo un po in avanti devo farvelo vedere così però siamo a rischio patatrack comunque che dire allora di carletto ci sono veramente diversi set di gashapon portachiavi action figure però girando le varie fiere ragazzi riusciamo a trovare quelle secondo me un po più carina ma è sempre visto un sacco questo set di portachiavi troviamo anche dei viniloni del mi pare sempre dell'art storm bellissimi giganti fatti veramente bene però lì le spese sono folli anche lo spazio da avere per esporli perché sono veramente grandi è abbastanza impegnativo di carletto consiglio che do io siccome ci sono veramente vari set tra gashapon e portachiavi di riuscire a recuperare quelle scenette o quei personaggi di ogni set che ci piacciono di più girando le varie fiere o le cose diciamo l'esposizione a tema i negozi a tema bene o male capita spesso di trova anche usando e commerce su internet riusciamo a trovare comunque di tanto in tanto anche solo le figure che ci piacciono vendute sfuse quello che consiglio è quello sulla pedana bianca perché costa poco e troviamo tutti e quattro loro che sono fatti vedete veramente bene questo qua 1 2 3 e 4 lo troviamo in un unico set che portiamo a casa con una quarantina di euro quindi questo lo consiglio sicuramente ragazzi che dire giunge al termine anche la recensione di questi personaggi tratti dal mondo di carletto il principe dei mostri come già vi ho fatto vedere in recensione molti sono portachiavi sono gashapon o sono delle piccole figure che nelle fiere comunque troviamo ragazzi poco prezzo anche su internet le troviamo tranquillamente soprattutto se andiamo a prendere il set quelli non completi e in questo caso lo consiglio perché magari in un set ci può essere una due figure che ci piacciono e quindi andiamo a recuperare proprio soltanto quelle che ci piacciono pagandole anche pochi soldi per esempio nel set di portachiavi come vi ho detto guardate questo il re i papi papi del carletto come fatto bene mi piace un sacco ve l'ho già fatto vedere anche il drago mi piace un sacco fatto veramente bene noi andiamo a prendere quel vinilone gigante che comunque ovviamente molto più bello ma ci occupa un sacco di spazio invece così insieme al future andiamo a fare un angolino in vetrina dedicato a carletto veramente bello con una spesa veramente piccola perché prendiamo una figure di un set uno di un altro uno di un altro come anche questo caso questa qua vedete che la andiamo a prendere la paghiamo poco perché il set non è completo in realtà andiamo a fare quello che vogliamo un angolino veramente bello di carletto l'unico set che consiglio completo è questo con la basetta bianca perché si trovano tutti e quattro loro vedete a 40 euro e quindi questo lo consiglio di comprarlo intero questo set qua anche perché sono fatti veramente bene e li abbiamo tutti e quattro con 40 euro giunge al termine questa recensione nel mondo del carletto tutti i suoi personaggi se vi è piaciuta e vi è stata utile pollice alzato like al video come dico sempre attivate la campanellina perché queste cose che vedete magari non le conoscevate poi come altre cose che metterò sul canale poi potete trovarle prenderle e quindi vedete magari anche un po di cose che vi sono sfuggite e soprattutto iscrivetevi al canale che più siamo più ci divertiamo ragazzi un saluto mi raccomando iscrivetevi anche adesso in alto quando esco io con il guanto solo gigante di tanos potete anche cliccare lì e fare iscriverti vi saluto così vedo il carletto che mi fa l'occhietto però qua c'è il braccio così è vuoto come la recensione di prima lui è un mandrillo come chi lo sta recensendo che è un mandrillo quindi lo facciamo felice e vi facciamo salutare così con questa mentre lui abbraccia questa mega tetta gigante un saluto dal carlo e dal carletto arapeggi alla prossima recensione ciao